Buongiorno e benvenuti a Villa Trissino Marzotto, sono Banna Zanuso, amministro questa dimora. Io non centro tanto con le automobili perché non capisco niente, però ho contatti con questi piloti, con i navigatori, sono riusciti a trascinarmi in questa, diciamo così, non passione, però nel gusto del bello. Qui sono nate queste macchine, qui le hanno ideate, costruite, modificate, per cui non poteva esserci una scenografia più bella. Sono contenta che si svolga qui un evento internazionale, abbiamo appunto questi americani, altri stranieri, tedeschi, eccetera, che arrivano perché abbiamo l'opportunità di far vedere dei monumenti storici, dei patrimoni delle nostre belle arti, assolutamente importantissime. Villa Trissino Marzotto, se solo pensiamo a 22 ettari di parco e a 5.000 metri quadri di dimora storica, penso sia un posto dove venire volentieri ad apprezzare le collezioni d'arte che ci sono all'interno. Abbiamo una raccolta importante di mocchiaioli, una tra le più importanti ovviamente esistenti, la collezione degli arazzi dei Gonzaga, quindi offriamo a chi voglia fare un tuffo nel passato qualcosa di inestimabile. Però questi eventi rendono contemporanee queste location, cioè queste location possono vivere ovviamente con esperienze di questo tipo. Il parco di Villa Trissino Marzotto è uno dei parchi storici più importanti d'Europa. È stato disegnato nel Settecento dall'architetto Muttoni che disegnerà l'alla settecentesca della villa e noi ovviamente difendiamo i disegni originali. Le mura comunque sono cinquecentesche, disegnano i confini della Spagna del Cinquecento perché c'è un matrimonio tra la famiglia Trissino e la famiglia Borbone e come regalo di nozze vengono fatte queste mura che disegnano appunto la Spagna del Cinquecento. 22 ettari di parco, abbiamo 7 km di stradine all'interno, un ciclo di statue, quindi direi un bel percorso non solo nella villa ma anche nel parco.